Ancora qualche migliaio di biglietti disponibili per il Jovavich Party di Montesilvano per raggiungere ad un afflusso non inferiore alle 33.000 presenze. E intanto Montesilvano, ma anche tutta l'area costiera pescherese, si prepara a vivere un evento che per portata è paragonabile solo al grande concerto distinga l'area di risulta negli anni 90. Nei prossimi giorni cominceranno ad essere effettuati i primi interventi di adeguamento nella vasta area che va dallo stabilimento Sabbia d'Oro ai Bagni Bruno, ma anche più a sud con altri due stabilimenti, Luna Rossa ed Azzurra, costretti anche loro a togliere ombrelloni, sdraio e lettini per consentire sul piano della sicurezza le giuste vie di fuga. Allora intanto proviamo a spiegare come sarà disposto il palco, ma non solo, tutte le strutture connesse. Qui dove ci ritroviamo, in questa altezza dello stabilimento Sabbia d'Oro, sarà realizzato il grande palco che ospiterà dalle 16 in poi intanto un lungo elenco di DJ fino all'ingresso di Giovanotti previsto per le 20.30. Alle mie spalle il cosiddetto retropalco, il backstage con tutte le strutture, i camerini, ma non solo, pensate, anche un mini ospedale da campo con 10 posti letto, proprio qui alle mie spalle. Siete contenti che viene Giovanotti? E lo so, ma vi tolgono un bellone. A rivendere potete venire invece da venire Giovanotti. L'importanza dell'evento un sacrificio si può fare. Tra i benefici del grande concerto di Giovanotti del prossimo 7 settembre, perfino un'opera di ripascimento già finanziata dalla Regione in un precedente progetto e mai realizzata. Nei punti in cui la linea di costa arriva ad una profondità di 75 metri, bisognerà aggiungere altri 15 metri. Nel tordo pomeriggio di ieri, altra riunione alla presenza dell'assessore comunale di Montesilvano, Alessandro Pompei, con i bagnatori interessati che dopo qualche perplessità ora si dicono entusiasti, malgrado il disagio di dover togliere gli ombreggi per la sabbia d'oro già dal 30 di agosto e per Abagni Bruno dal 5 settembre. L'organizzazione ha assicurato anche, in caso di necessità, il supporto del proprio staff tecnico. C'è un grande entusiasmo perché questo è un evento probabilmente irripetibile per la città, un'occasione unica per farci vedere, per mostrare quello di cui siamo capaci di fare, quindi c'è un grande impegno da parte nostra perché tutto funzioni. Siamo felicissimi di dare questa nuova iniziativa, sperando in un domani in altre buone iniziative. I miei colleghi, ci tengo a dire, altri stabilimenti ci vengono incontro vorrendo ospitare anche i nostri clienti. Se nei giorni di questo evento noi non possiamo dare gli ombrelloni, sono venuti anche i colleghi dicendo che possiamo mandare i nostri clienti da loro e sinceramente siamo molto molto ottimisti. Benefici eventualmente anche sul piano commerciale, visto che potrebbe esserci la possibilità di tenere aperti i bar con due formule a scelta, occuparsi direttamente della vendita di bibite e generi alimentari o fidare il servizio allo staff dell'organizzazione con una percentuale a proprio vantaggio che si aggira sui 25%. Per quanto riguarda l'area interdetta, si tratterà di un ampio quadrilatero che va da Via Arno a Via Maresca, quella dei grandi alberghi per intenderci, mentre saranno off-limit le strade da Via Trentino a Via Arno con la chiusura totale della pineta sorvegliata H24 per evitare bivacchi e perfino boe luminose in acqua per evitare approdi dal mare. I punti di accesso saranno a sud e a nord di Via Isonzo, mentre l'area riservata alle navette da Via Arno a Via Adige.